La mostra Costruire per gli dèi ha l'intento di ricreare, naturalmente sotto l'ausilio di una base scientifica certa, le tecniche e i mezzi che sono stati utilizzati per la costruzione dei templi dell'antica Kragas, partendo da quelli che sono i materiali utilizzati. Dunque abbiamo ricostruito una porzione di cava, facendo vedere quali erano i mezzi utilizzati per l'estrazione del materiale, della calcarenite in questo caso, fino ad arrivare proprio al cantiere vero e proprio. L'ultima installazione infatti è una porzione di un tempio, di un cantiere, di un tempio ricostruito. Naturalmente dalla cava al cantiere ci sono tutti gli altri elementi che servivano al trasporto in primis, per cui sono stati ricostruiti i carri, la slitta, le due macchine che sono in esposizione vicino al Tempio della Concordia, che sono la macchina di chersifrone e la macchina di metagine per il trasporto di grandi blocchi, fino ad arrivare, come dicevamo, nell'area del Tempio di Giove e del Tempio dei Dioscuri al cantiere vero e proprio, con due grandi bighe ricostruite e un polispostos vitruviano. Questo ci fa vedere anche quanto la tecnologia all'epoca, seppur semplice, è basata su due principi fondamentali, che sono quello della ruota e quello della leva, con questi due elementi si riuscivano a costruire anche delle macchine molto performanti, considerando anche che si riuscivano a spostare blocchi di dimensioni notevoli e di pesi veramente notevoli. La bighe in questione è costruita circa, è alta 12 metri e consentiva di alzare anche blocchi che pesavano diverse tonnellate. Nel caso specifico, naturalmente, completa poi la mostra, la parte documentaria all'interno dell'auditorium Lizzi, con la parte dedicata anche alla policromia, quindi questo elemento conclusivo di decorazione dei tempi, che viene ulteriormente spiegato, con l'ausilio di alcune opere che sono quelle di Torfa, di Serra di Falco, che per primi nel corso dell'Ottocento riscoprono, riportano quelli che erano i resti policromi dei tempi e li rappresentano nei loro studi.